La prevenzione delle dipendenze patologiche tramite un'unità di strada è l'obiettivo sociale dell'unità di crisi composta da quattro operatori della cooperativa sociale Cosmarche che dal 20 febbraio scorso si stanno impegnando per contattare persone disagiate alle quali vengono offerte informazioni e assistenza. Si tratta di senza tetto, tossicodipendenti, persone che vivono di carità e i parcheggiatori abusivi che con la loro presenza in città costituiscono un acceso dibattito. Il servizio si chiama Viva la Vita e si estende a tutti i comuni dell'ambito, volto a combattere tutti i rischi di devianza che interessano soprattutto i giovani dal consumo di droghe al gioco compulsivo fino alla dipendenza tecnologica. Ci sono varie tipologie di intervento che sono sia di contatto e quindi per la capacità di riconoscere che cosa sta accadendo nella nostra città e metterlo a disposizione dei servizi dei soggetti della politica per poter immaginare anche percorsi più mirati sia di intervento precoce e sia di risposta più efficace e più capillare e allo stesso tempo anche per dare delle informazioni perché molte persone che vivono non in maniera integrata nel nostro territorio. Tra le finalità anche il monitoraggio delle risorse del territorio come istituzioni, servizi, club, associazioni e gruppi spontanei di genitori per costituire una rete collaborativa che possa fornire assistenza a questi soggetti. L'iniziativa è stata finanziata dalle Regioni Marche con 35.000 euro e sarà operativa sul territorio fino al prossimo 31 dicembre.